Siamo differenti. Ogni nuovo inizio per noi nasce da un'esperienza condivisa. Quando guardiamo insieme al futuro, vediamo sempre un'opportunità. E ogni nostra azione cresce se cooperiamo. Le vostre storie sono la nostra storia. Siamo un milione e duecentomila soci. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità, nelle scelte, ci siamo. Banca di credito cooperativo. La nostra banca è differente. Grazie.